ciao a tutti buonasera allora io sono maria giovanna e siamo da marco capitoni è una bellissima realtà vinicola a nord della val d'orcia si sul crinale e siamo una bellissima cantina circondati da botti barrique e anfore non so marco vuoi raccontarci un po di quello che produci un po la realtà dell'azienda beh volentieri innanzitutto davvero prima di tutto grazie per la visita per il piacere per la vostra attenzione che di sicuro insomma ci gratifica molto si siamo nel comune di piensa siamo 460 e oltre metri sul livello del mare è proprio una lieve collina dove alloggiano le nostre vigne di rimpettaio all'abitato di piensa quindi quello che facciamo si una viticoltura assolutamente manuale attenta rispettosa del dell'ambiente il tutto per riuscire ad ottenere delle uve sane comunque ricche e ottenute appunto nella maniera più naturale possibile questa nostra idea poi si trasferisce appunto nelle vinificazioni tanto da ottenere vini così molto molto integrali molto veri e molto specchio dell'annata dove così il carattere imposto da appunto l'andamento stagionale risulta così molto anche leggibile nei nostri vini proprio a rimarcare rivendicare una una verità della produzione e una insomma un'autenticità potrei dire di quello che facciamo e del nostro lavoro dei nostri vini complimenti infatti la realtà si palpa e si apprezza sia nella qualità del vino che nel tuo racconto e nella tua spiegazione non siamo abituati insomma apprezzare una tale qualità una tale ricerca attraverso insomma il prodotto delle viti in questo caso di Sangiovese di Merlot principalmente e insomma sarebbe anche bello magari ripercorrere insieme un po' il processo che insomma poi c'è dietro a un calice di vino e a partire dalla cura della pianta fino a un processo di vinificazione attento e curato come quello del tuo vino sì cercherò di come dire ritrovare una sintesi a questo insomma sì vi parlavo appunto di una viticoltura completamente manuale dove non si fa assolutamente né adesso ma dovremmo tornare proprio indietro di molto se non trovarne proprio addirittura traccia di prodotti chimici nella gestione delle nostre coltivazioni ovviamente per lavorare in questo modo e per fare a meno di questi prodotti occorre innanzitutto appunto un'attenzione particolare in qualche maniera se posso trovare come dire se posso coinvolgervi avvicinarvi al nostro modo di produrre trovare delle forme di collaborazione con le piante interagire con i loro messaggi che pur ci girano ci manifestano con i loro comportamenti per fare in modo appunto di avere di proteggere i frutti che comunque vanno protetti da funghi patogeni da attacchi diversi da andamenti stagionali climatici complicati o che comunque diciamo non simili a quelli per le quali le nostre piante qui avevano trovato dimora quando qua raggiungiamo che ne so i 38 gradi 39 gradi qualche decina di anni fa non c'erano queste condizioni quindi dobbiamo fare in modo di aiutare la pianta a sopportare a sopportare questi cambiamenti devo dire che ci accorgiamo di quanto ci sia veramente un'adattabilità la pianta è una la vite è comunque una pianta rustica riesce appunto ad adattarsi anche a condizioni più meno favorevoli no più estreme in questo noi cerchiamo di come dire aiutarla dalla gestione dei suoli gli inerbimenti cercare di catturare tutte le acque invernali quindi con degli appositi con delle opportune lavorazioni immediatamente dopo la vendemmia che facciamo sui suoli per catturare tutta l'acqua piovana che poi servirà appunto al così al mantenimento e alla vigoria poi estiva di cui le piante hanno bisogno evitando appunto ruscellamenti superficiali ma piuttosto cercando di capturare quindi anche qua attenzioni pratiche agronomiche atte a far vivere la pianta nel miglior modo possibile o mi vengono in mente per esempio i trattamenti con le alghe che facciamo nel periodo estivo e quando le temperature tendono ad alzarsi parecchio per fare in modo di così di stendere mettere a disposizione queste sostanze questi prodotti per esempio è sull'apparato fogliare che agiamo ecco cosa succede nel momento in cui le temperature si alzano oltre modo la pianta va in protezione si accartocciano le foglie si chiudono le stomi sostanzialmente si bloccano le maturazioni trattamenti con le alghe riusciamo a distendere la foglia a dare un benessere proprio percettibile dal punto di vista della pianta e quindi fare in modo che le maturazioni seppur in difficoltà comunque in condizioni non particolarmente favoribili però continuano ad andare avanti questa è già una descrizione bellissima perché traspare un'attenzione che sicuramente poi viene proiettata sul frutto ma prima di tutto parte dalla pianta che è la fonte del frutto e innanzitutto fa parte di un ecosistema e quindi non c'è solo una particolare dedizione verso la pianta ma verso tutto un equilibrio territoriale quindi questo sicuramente è apprezzato nella tua identità e in quello che produci nelle tue attenzioni infatti come dicevi adesso ci hai descritto in particolar modo questo trattamento all'alga di cui non avevamo ancora parlato però anche solo il rispetto di un inerbimento e anche di una fauna di una microfauna perché poi ci sono degli insetti che vivono comunque all'interno dello stesso ambiente possano comunque giovare al benessere della pianta, al benessere vegetale e invece per quanto riguarda l'attenzione del frutto? Sì, allora partendo prima ancora o contemporaneamente nel valutare la bontà del frutto da un punto di vista proprio di ricchezza, di caratteristiche poi funzionali al risultato finale quindi ai vini parliamo di una sanità del frutto e anche qua come dire ci appelliamo a metodi che in qualche maniera quando parlavo di collaborare con le piante è inteso nel senso di interpretare i segnali che loro ci mandano e cercare di proteggere la pianta e il frutto anche qua sì ricorrendo in parte anche a uso di rame e zolfo ma in particolare mettere in condizioni la pianta di difendersi autonomamente che è un concetto completamente diverso di intervenire noi cercando di colpire il fungo patogeno ecco questo è un approccio ovviamente diverso per portare, per arrivare al punto ad avere uve sane indubbiamente e ricche ricche proprio da un punto di vista di tutte le caratteristiche che poi noi ne godremo nel vinificarle e nel poi ottenere in ultimo poi il vino sì anche perché non siamo molto abituati al pensare ma nel momento in cui beviamo un calice di vino si tratta anche di un atto di fiducia perché stiamo introducendo all'interno del nostro corpo un determinato prodotto e pur non conoscendo insomma tutte le diverse pratiche sia i procedimenti piuttosto che i trattamenti che vengono effettuati il fatto di introdurlo dentro di noi vuol dire che stiamo affidando al nostro corpo qualcosa di esterno che vogliamo assimilare quindi è molto interessante sapere che ci sono realtà come le tue che si preoccupano di intervenire il meno possibile chimicamente nei vari procedimenti infatti abbiamo parlato anche di trattamenti dell'evitare un determinato tipo di trattamenti e prediligere infatti questa induzione alla resistenza della pianta stessa che penso sia geniale e anche relativo a quello che è natura la natura si trova un ostacolo e chiaramente all'inizio viene attaccata ma poi sviluppa un nuovo tipo di resilienza una parola che ormai di cui siamo anche saturi però a quanto mai vera insomma anche parlando del procedimento insomma di produzione del vino c'è un certo tipo di raccolta un certo tipo di selezione e poi ci sono c'è la fermentazione vinificazione insomma vogliamo magari attraversare un pochino i vari step sì perché le persone affinché le persone insomma possano entrare un po' di più in quello che c'è prima della bottiglia sì volentieri volentieri e ripartiamo pure da questa uva che siamo riusciti a portarla alla migliore maturazione possibile almeno clima permettendo annata permettendo perché poi talvolta sono molti no come si dice la nostra fabbrica non ha il tetto e quindi come tale è suscettibile poi di tante variabili però come dire attivando tutta una serie appunto di pratiche di attenzioni cerchiamo di approdare alle migliori maturazioni alle maturazioni più complete la vendemmia il momento è che come dire insomma concretizza in qualche in qualche maniera insomma tutto il lavoro di un'annata no allora ovviamente raccolta manuale con una selezione in vigna successivamente ancora una selezione almeno in realtà sono due le selezioni che facciamo prima della diraspatura e della premitura a quel punto i chicchi delle nostre uve vanno nei fermentini e inizia la fermentazione inizia a nascere il vino la fermentazione inizia a nascere inizia a nascere sì una frase bellissima è così in qualche maniera forse da un punto di vista prettamente tecnico non so se sia corretto dire comunque potremmo dire insomma per rimanere un po' su questo è i lieviti i lieviti spontanei i lieviti indigeni che sono sulle sull'uva che sono nelle pareti della cantina iniziano il loro lavoro iniziano il loro lavoro iniziano a trasformare gli zuccheri in alcol e si sta nascendo il vino sostanzialmente ecco le fermentazioni sono spontanee non si inoculano lieviti secchi non si inoculano batteri nelle fermentazioni successive nella fermentazione malolattica non si usano altri coadiuvanti di fermentazione o successivamente di stabilizzazione questo a cercare di fare emergere in maniera chiara riconoscibile se ci riusciamo le caratteristiche proprio date dalle uve dal nostro vigneto dalla conduzione del nostro vigneto dal microclima che abbiamo dalle condizioni più generali che abbiamo nelle nostre vigne e ovviamente dalla nostra mente dalle nostre conoscenze dalle nostre mani hai utilizzato delle parole bellissime oltre a nascita che comunque richiama una nuova vita una trasformazione in questo caso del vino che comunque deve tanta gratitudine alla natura e anche quando parli di lievi delle fermentazioni non solo spontanei ma indigeni indigeni anche una parola molto forte e molto bella e molto vera quanto più vera si probabilmente più che perché spontaneo è indigeni proprio perché sono qua sono qua sono nei muri della cantina sono nelle bucce sono nel grappolo delle uve e sono qua e non sono da un'altra parte è infatti non penso che non sia solo un valore aggiunto ma quanto più una caratteristica che rende il tuo prodotto quanto più locale e autentico possibile e ricordando anche comunque le uve che utilizzi il sangiovese che è territoriale proprio della zona e il merlot che comunque gode di una bella prosperità ci sono le condizioni per fare dei buoni merlot certo assolutamente non so se vuoi descrivere i vari prodotti che proponi sì assolutamente anche un prodotto che insomma di cui sei tanto orgoglioso che è questo puro sangiovese che viene comunque vinificato in anfora sì certo certo e sì forse conviene proprio immaginando anche come dire di simulare una degustazione è il primo vino che normalmente versiamo e quindi il primo vino di cui volentieri vi parlo è un sangiovese è un sangiovese 100% è una vinificazione interamente fatta in anfora di terracotta quindi andiamo direttamente con le uve una settimana 8 giorni di fermentazione di macerazione con le bucce con le vinacce successivamente si rimuovono le vinacce senza premere solo in mostofiore quello che viene preso rimesso in anfora e continua la fermentazione senza la presenza delle bucce in questo caso l'obiettivo è come dire proporre il sangiovese nella sua versione più giovanile più facile in qualche maniera dove il frutto dove la parte floreale che il sangiovese anche esprime dove il varietale proprio quando parliamo di vitigno di caratteristiche proprio intrinseche del vitigno in questo caso sono come dire così espresse essenziali e proprio espresse nella maniera più netta questo è il motivo per il quale anche questa vinificazione facciamo in anfora di terracotta in anfora il vino per il vino è possibile avviene una maturazione perché è comunque un contenitore che consente una microossiuginazione importante ancora più di un legno per certi versi ma la differenza sostanziale con il legno è che non cede nulla non è completamente corretto dire che è inerte perché comunque delle delle nuanze delle sfumature le regala il vino ma comunque diciamo è un vero io così lo vorrei interpretare come un vero esaltatore della materia prima e da vignaioli che quali siamo ecco che un contenitore al quale sono particolarmente affezionato infatti l'anfora ti porta in una condizione di avere un prodotto eccezionale come dicevamo a partire dalla vigna e anche perché poi chiacchierando insieme abbiamo insomma analizzato i vari procedimenti anche seppur partendo dalla vigna insomma la produzione di vino sia un metodo anche la crescita della vigna stessa richieda comunque tanta partecipazione da parte dell'uomo perché altrimenti la vigna crescerebbe a strascico come dicevamo sì è un associante sì il prodotto a partire dall'inizio in questo caso deve essere eccezionale assolutamente sì mentre al giorno d'oggi il vino può essere alterato o modificato se non diventare parte di una ricetta che ha diversi procedimenti che coinvolgono anche insomma la cantina e le varie fermentazioni con lieviti che possono essere insomma aggiunti piuttosto che altri additivi però comunque anche il solo fatto adesso questo prodotto troccolone troccolone giusto sì è giusto comunque l'anfora quindi mantiene quanto più possibile la sua il sapore della sua uva però invece parlando di botte di legno di barricche c'è un altro convolgimento di un legno quindi comunque che porta il suo aroma la sua caratteristica e che quindi condiziona via uno scambio un arricchimento vero e proprio potremmo definirlo così nel caso dell'etichetta Capitoni questa è la prima etichetta che noi abbiamo prodotto nella 2001 è stato il primo anno che noi abbiamo vinificato per arrivare a proporre i nostri vini in bottiglia nel podere nell'azienda agricola da sempre dicevo prima noi agricoltori da generazioni da sempre sostanzialmente diciamo pure che in passato non c'era un Capitoni che non fosse contadino non c'era un falegname non c'era un muratore i Capitoni erano contadini ecco e pertanto vino si era sempre fatto metà anni 90 l'idea appunto di privilegiare questa parte produttiva dell'azienda fino ad arrivare a proporre i nostri vini in bottiglia quindi vi dicevo il primo la prima etichetta che è uscita dal 2001 e qua concorrono a differenza del primo caso più elementi che determinano poi il risultato finale intanto sono due uve Sangiovese e Merlot principalmente Sangiovese ma con un saldo di Merlot allora nelle vigne che noi abbiamo piantato nel 99 ci fu una scelta proprio ben precisa oltre al Sangiovese avere anche un po' di piante di Merlot il Merlot non ci paga da un punto di vista territoriale di origine francese usato in gran parte del mondo dove si fa vino Merlot si usa ma non a caso il Merlot è un'uva performante ha una costante qualitativa anche in funzione di andamenti stagionali diversi più o meno buoni o appunto suoli e esposizioni diversi riesce a dare comunque una qualità alta generalmente una qualità alta molto buona in alcuni casi appunto poi eccellenze figuriamoci ma nel nostro caso non è come dire inteso come protagonista ma è demandato un ruolo specifico ossia in Merlot ridare al vino quello che l'annata eventualmente non ha dato al Sangiovese quindi delle nostre tre etichette che normalmente proponiamo questa è l'unica di che di sicuro viene prodotta ogni anno il blend è diverso proprio in funzione dell'andamento stagionale che abbiamo avuto durante quell'annata e che ci ha portato a quella vendemmia quindi vendemmia separate di Merlot vendemmia separate di Sangiovese diviso per cloni per parti del vigneto vinificazioni separate legni diversi in affinamento legno grande oppure tonno oppure barrique dopo i due anni di affinamento blend finale ecco perché è l'etichetta che riesce ad uscire ogni anno casomai in un numero molto ridotto di bottiglie se l'annata è meno buona e con un percentuale di Merlot più alta nel blend il nostro ventaglio si apre da minimo 60 Sangiovese a massimo 90 e in queste possibilità cerchiamo di trovare ogni anno almeno appare il nostro insomma la miglior sintesi l'ideale compromesso ecco l'ideale compromesso quindi annata meno buona meno bottiglie non tutte e tre le etichette saranno disponibili verranno prodotte di sicuro sempre questa un numero inferiore di bottiglie un blend diverso in favore appunto del Merlot per riuscire comunque a esprimere qualcosa di comunque insomma buono o alto potrei dire benissimo grazie mille io comunque sono ancora piacevolmente sorpresa da questa tua sincerità nel dire questa è l'etichetta che possiamo che posso garantire come azienda le altre dipendono dalle annate questo ti fa onore in quanto comunque riconosci e ti adatti insomma alla realtà della natura di quello che può offrire o meno un'annata di quali possano essere le condizioni e già insomma prima ero rimasta estasiata insomma dall'accettazione che c'era insomma in questa tua in questa tua opinione e adesso infatti questa è un'altra etichetta sì sì parlando appunto di prodotti che riusciamo a produrre di vini che riusciamo a produrre ogni anno o meno in questo caso assolutamente no esce solo le anni quando l'andamento stagionale veramente è andato al meglio riusciamo a produrre l'etichetta frasi in nome del vino lo dico proprio anche per ma mi aiuta un po' per introdurre un po' un millesimo una frase in etichetta ogni anno ha una frase diversa questo non dubbiamente mi diverte ma io volevo rimarcare in maniera netta esplicita proprio questa variabile data dall'andamento stagionale quindi l'andamento stagionale va a come dire forgia in qualche maniera il carattere del vino crea la personalità di quel vino proprio per l'andamento stagionale che abbiamo avuto e questo se vi ho parlato di un puzzle nella seconda etichetta in questo caso è un unicum della serie che è una vigna un vigneto che è ormai 50 anni che ha piantato mio babbo e i miei zii dove alloggiano maggiormente piante di sangiovese ma anche di canaiolo ma anche di colorino è il mix proprio vecchio toscano come si usava a fare i vigneti quindi le uve vengono raccolte insieme fermentano insieme affinano in un'unica botte una botte da 33 ettolitri legno è un allie quindi francese con una leggerissima tostatura due anni di affinamento e poi successivamente ancora un anno di affinamento in bottiglia ecco qua o sono 4.300 bottiglie o sono 0 bottiglie non non come potremmo dirlo potremmo definire molto molto ortodosso nel senso che non prevede appunto aggiustamenti e questo appunto è il nostro orcia sangiovese riserva approfitto una precisazione insomma doverosa anche per dare giusto insomma rilievo alla denominazione in questa area insiste la denominazione è una doc orcia doc è stata istituita nel 2000 comprende 11 comuni alcuni totalmente alcuni in parte e i nostri vini sono nelle varie menzioni che il disciplinare ci mette a disposizione appunto sono tutti orcia doc nello specifico un orcia sangiovese in quanto è 100% sangiovese un orcia riserva la seconda etichetta orcia sangiovese riserva l'etichetta del frasi bene e che frase abbiamo in questa in questa bottiglia prego allora il tempo cambia le cose cambiare pur rimanendo se stessi persistere beh diciamo che è una frase che si presta bene anche per il vino il tempo l'affinamento persistere sì allora le frasi sono generalmente molto compresse no talvolta con delle parti anche più insomma minimamente insomma più criptiche e possono avere già insomma generalmente le parole di suo anche se scomposta insomma hanno un peso hanno un valore hanno in realtà nello specifico questa è l'annata è la 2019 è l'ultima che è stata in commercio perché poi perché non era stato possibile produrre né 17 né 18 la 20 appena è stata imbottigliata sta facendo affinamento non ci sarà poi la 2021 peraltro andando avanti ecco come vi dicevo prima i frasi era proprio espressione di una vigna questa è una vigna che ha 50 anni fisiologicamente negli appezzamenti di vignette le piante iniziano a morire cosa ci siamo posti siamo trovati davanti a un bivio o non produrre più l'etichetta frasi o aiutare questa etichetta introducendo delle uve che non arrivavano solo esclusivamente da quel vigneto con il piacere di condividere ogni passaggio siccome era la prima annata in cui oltre al vigneto di 50 anni qui c'erano una piccola pochi quintali di uva preso da un vigneto che ne aveva 22 di anni 23 che è appunto solo San Giovese in quel caso certo e io avevo la volontà la necessità il piacere di come dire informare quindi cambiare perché non era solo di quell'unico vigneto ma pur rimanendo se stessi perché l'identità del vino frasi è rimasta tale proprio per continuare a desistere e quindi persistere e quindi continuare a produrre questa etichetta beh oltre all'identità del vino stesso è anche insomma dare onore alle vite originarie insomma le vite di famiglia che comunque hanno poi permesso insomma lo sviluppo di una realtà così studiata e così ricercata e tra l'altro poi abbiamo ancora un'etichetta da raccontare che per quanto possa essere un uvaggio internazionale come sapore è un sapore che resta assolutamente complesso strutturato e di altrettanto valore oltre a tutto questo volevo anche solo riprendere il fatto che tu abbia parlato sempre di barrique ma anche di tostatura quindi questo è un'altra un altro procedimento che fa parte insomma della lavorazione del legno quindi si parla sempre di un altro elemento naturale di un condizionamento insomma un adattamento di questo di questo legno tutto per dire che sono veramente tante e dettagliate insomma dettagliati gli accorgimenti che rendono poi un vino di qualità sì sono indispensabili vorrei dire sì due parole su questa etichetta di questo vino e partendo proprio dall'etichetta il vino si chiama l'uomo e l'uva qui senza falsa modestia insomma potrei proprio sintetizzare l'uomo sono io l'uva e il merlot è una è un'unica uscita probabilmente non una tantum probabilmente oppure non lo so ma proprio perché vi dicevo il merlot è stato sempre funzionale all'etichetta di Capitoni l'annata 2019 abbiamo goduto di una qualità del Sangiovese molto molto alta quindi nel blend è andato poco merlot io avevo un po' di merlot che potevo usare diversamente era l'occasione che aspettavo in realtà da un po' di tempo per con il piacere del confronto con il piacere di come dire di presentare no e di confrontarci con appunto gli addetti o con chi abbia voglia appunto di vedere quello che stiamo facendo proprio a dire ok il merlot questo è il merlot sì e comunque un vitigno internazionale usato in tante parti del mondo da chi amato da chi amato di meno da chi proprio odiato in qualche misura a dire siamo noi riusciti a darle un cesello di personalità proprio dai nostri suoli dal nostro lavoro in vigna dal nostro approccio in cantina e questa era una prova tangibile di quello che potevamo fare quindi proprio con il piacere di dire ok questo è il merlot che viene qui da noi di condividere un'esperienza e di reperire di ricevere in cambio un parere certo quindi questo non è solo il merlot questo è il mio merlot oh sì oh sì sì l'uomo e l'uva sì così è un'altra un'ultima cosa che volevo sottolineare che è meravigliosa perché comunque stiamo parlando di etiquette che richiedono un tempo e adesso abbiamo in mano una bottiglia del 2019 poi ci hai raccontato che anche nel 2020 sì che nel 2020 sei riuscito ad avere abbastanza quantità per produrla però non sono non sono bottiglie non sono etichette garantite e poi prima di riuscire a assaporare il prodotto finale ci vuole tempo e quindi penso che un ingrediente molto importante della produzione sia anche la pazienza l'attesa sì ritorno all'uva uva che poi insomma mi viene così uso spesso definita uva sana ricca che in cantina appunto diventa vino nella maniera più naturale possibile quindi uva importante e tempo ovviamente anche in cantina mille mille attenzioni ma sostanzialmente gli elementi anche l'affinamento in bottiglia diventa un passaggio enologico fondamentale i vini che escono dalle dalle fermentazioni dal successivo affinamento hanno così potremmo definirli così molto integrali anche nelle loro parti non propriamente godibili immediatamente che ne so strutture tanniche importanti o comunque acidità sostenuta quindi elementi che non subito riescano ad essere apprezzate ma sono le gambe che consentiranno a questo vino un lungo viaggio di apprezzarlo poi noi possiamo certificare possiamo conoscere fino alla 2001 perché è il primo anno che abbiamo imbottigliato ecco posso dirvi che ancora la 2001 è un vino assolutamente godibile ormai certo con un'evoluzione importante sia visiva olfattiva ma che ancora esprime ancora ha come diremo ha tanto da raccontare no è un vino che io mi aspetto ancora godibile per molti anni e sono già passati oltre vent'anni complimenti un racconto di un brodo con gli ingredienti giusti di qualità che prevede una cottura lenta dove anche la fiducia poi garantisce un prodotto finale che poi si può mantenere anche così tanto così a lungo grazie mille Marco grazie a te davvero facciamo un cin ricordo insomma della degustazione volentieri che abbiamo grazie mille grazie a te Grazie a tutti.